E bravi questi truffatori del cartellino, dipendenti pubblici che timbrano la presenza e poi invece di rimanere nel luogo di lavoro vanno altrove. A Gorizia dunque, non a Canicattì, provincia di Agrigento con tutto il rispetto per i suoi abitanti, i carabinieri hanno portato a termine una complessa indagine che nel settembre dello scorso anno consentì l'individuazione di sei persone licenziate in tronco. Gli sviluppi sono giunti ad accertare ben 14 casi, chi ha il casino in Slovenia, chi ha manifestazioni di vario tipo, chi ha fare la spesa o lo shopping. Il lavoro dei militari dell'arma è stato capillare, gli interessati sono stati pedinati per mesi e ripresi dalle telecamere, che hanno seguito tutta la loro giornata dal momento in cui arrivavano al luogo di lavoro, svolgendo correttamente il loro incarico, ovvero timbrando l'attestazione di presenza, salvo poi uscire per un tempo prolungato. Sono indagati dalla procura di Gorizia per l'ipotesi di reato di truffa. L'aspetto sconcertante riguarda l'ambiente di lavoro, possibile che nessuno si sia mai lamentato, oppure bisogna arrivare a pensare che fosse un modus operandi diffuso e quindi non considerato tale nella sua gravità. Fatto sta che dopo una mezza dozzina di dipendenti, altri 14 rischiano di essere lasciati a casa. Una o due persone possono far gridare al mal costume, ma questi numeri inducono ai peggiori pensieri.